E ora ricominciamo i lavori. Dunque, adesso cominciamo a discutere di quello che abbiamo visto, abbiamo sentito e visto stamattina e lo facciamo così, andando un po' random all'inizio per cercare poi di chiudere in qualche modo. Allora, io comincerei col professor Giuseppe Lauria Pinter. Allora, una parte del suo lavoro è dare notizie non sempre magnifiche. Quando avete a che fare con un paziente che di fatto non ha una cura vera o perlomeno non ha speranze di guarigioni realistiche come un paziente con la SLA. Cosa fate? Avete sviluppato un approccio strutturato di comunicazione e di relazione? Sì, questo diciamo rispetto al contesto della discussione di oggi è un tema che diventa quasi un paradigma, no? Perché tra le varie considerazioni, alcune note che mi appuntavo rispetto alla relazione medico-paziente, naturalmente, diciamo, una porta molto rilevante è cosa succede e come essa cambia quando cambiano le terapie, quando cambia la disponibilità di terapia. L'area oncologica è stata chiaramente esemplificativa di questo, no? Ha dimostrato un cambio strutturale nella relazione che c'è, nell'immaginazione che c'è della malattia, intanto, e poi dell'approccio che le persone hanno con la malattia. L'area delle neuroscienze che credo che negli ultimi 50 anni abbiano rappresentato l'area di maggiore sviluppo, o tra le aree di maggiore sviluppo culturali, peraltro io occupandomi di questo, il fatto che la psichiatria si diriga, no? Verso la biologia o la neurobiologia è estremamente rilevante, perché ci sono assai di evidenze su questo. Quindi, naturalmente, il contesto di relazione che c'è quando chi abbiamo di fronte non ha una malattia, non ha una possibilità di cura, subisce l'interferenza di molte variabili. Tra queste, per esempio, mi era abbastanza colpito una cosa che mi ha detto qualcuno, forse, Alan, all'inizio, cioè i malati conoscono la diagnosi, non sono sicuro che sia esattamente vera. Chi è stato? William Hogan era stato. No, no, ho capito, lo riprendeva, lo riprendeva, sì, questo certo, lo riprendeva. Beh, diciamo, non sono proprio esattamente sicuro che sia così e quindi rispetto ad allora sono effettivamente cambiate molte cose, è possibile vedere come alcune aree si accendano, possiamo immaginare in maniera alcune volte specifica, alcune volte non specifica, però in effetti anche questo è un tema rilevante, quando ci si confronta con persone che hanno oggi una possibilità di accesso a informazioni indiscriminata, il web per esempio, e nel contesto a cui accennavano la SLA è facilissimo, la parola fascicolazione per esempio è ricercata nel web dall'80-90% dei pazienti che noi vediamo. In realtà però rispetto a questo c'è un tema molto importante che è come arrivano queste persone, dai medici, che cose i medici restituiscono a queste persone, che cosa c'è importante dire, se potete dire o non dire. La settimana scorsa è uscito un editoriale, ma un lavoro di perspective sul New England Journal of Medicine, che si intitolava The Grace of Denial, cioè la grazia del negare, a cui abbiamo risposto con The Anguish of the Not Said, cioè l'angoscia del non dire, perché ad esempio nella nostra esperienza diciamo relazionarci con persone che passano attraverso un percorso, sì, strutturato di diagnosi, a cui arrivano attraverso una fase che è fatta di alcuni passaggi, che non sono poi molti, in realtà determina una riduzione della loro angoscia, una riduzione della loro ansia, una risposta alle loro aspettative di conoscere effettivamente ciò con cui si stanno confrontando. E questi sono i primi due punti, adesso non voglio, sono varie altre cose da... Tra l'altro, se non mi sbaglio, ci sono altri studi nei neuroimaging condotti, credo dal professor Benedetti, non potrei sbagliarmi, di Torino, che dicono proprio che la riduzione dell'ansia, anche semplicemente legata a un'attesa di riduzione del dolore, semplicemente questo accende determinate aree cerebrali, mi sembra di ricordare area prefrontale o corticale, adesso però potrei sbagliarmi, mi conferma che... Benedetti si occupa di effetto placebo da moltissimi anni, anche questo, insomma, il paradigma che abbiamo sentito oggi nasce dal paradigma del dolore, che è stato una delle aree in neuroscienza, uno degli argomenti più approcciati per primo, forse, tra i primi in risonanza funzionale, che ha determinato alcune ipotesi, che poi in realtà non sempre si sono rivelate vere, no? Per esempio, la pain matrix non è esattamente chiaro che esista, ovvero esistono delle attivazioni, ma esistono delle attivazioni che non sono di aree, che non sono specificatamente attivate dal dolore, è stato dimostrato in maniera chiara, è stato dimostrato anche in maniera molto chiara, per esempio, che pazienti che hanno malattie genetiche, le quali non percepiscono dolore, delle mutazioni in alcuni canali, attivano esattamente le stesse aree, che sono considerate specifiche per dolore, pur non percependo nessun dolore. Quindi, questo vuol dire che ci sono, diciamo, c'è naturalmente un network di aree che vengono attivate, per modalità però, che si dice, supramodali. Quindi, questa è la cosa fantastica del cervello, no? Della possibilità di integrare ad un livello che noi percepiamo, che riusciamo a comprendere fino a un certo punto, che per ragioni ovvi abbiamo necessità di semplificare, e naturalmente quello che abbiamo scritto oggi è un eccellente esempio di approccio migliorativo, o dell'utilizzo di strumenti per avere un approccio migliore. Poi passo alla seconda domanda, ecco, una cosa che mi ha colpito anche di quello che ha detto lei adesso, supramodali, mi ricordo quando mi sono laureato in medicina, quando si parlava di linguaggio, area di Broca, area di Verni, che è finita lì. Adesso, quando parliamo di linguaggio, è, diciamo, un arcobreno di accensioni dappertutto, quindi è evidente che le cose sono più complesse di quelle che sembrano sempre a prima vista, però, come ha sottolineato lei, per esempio oggi c'è un passo avanti significativo con questo studio, come c'è con altri. Professor De Broca, adesso, lei di mestiere fa, sperimenta, diciamo così, nuove terapie oncologiche. Allora, sperimentato e sperimentatore hanno due approcci, due cerfelli, chiamiamoli così diversi. Ecco, il fatto di dover spiegare o proporre una sperimentazione pone un problema di relazione particolare, pone dei limiti, in che modo interferisce, se interferisce con la relazione medico-paziente, chiamiamola normale? Beh, diciamo che la relazione medico-paziente ha un'importanza che è a prescindere dalla sperimentazione. La sperimentazione spesso è vissuta la paziente come, almeno in oncologia in questo momento, per quello che dicevamo prima, cioè in un'arte medica in cui ci sono state un sacco di innovazioni negli ultimi pochi anni per una malattia che noi non siamo stati educati ad affrontare. Noi viviamo in una società che non ci educa a percepire la sofferenza, la malattia, l'incertezza. Noi viviamo la nostra vita perché abbiamo una grande incertezza, non sappiamo quello che ci succederà e quindi nel momento stesso in cui abbiamo un problema, invece cominciamo ad avere la certezza o la paura di una certezza che non vadano bene le cose. Quindi la sperimentazione in quel momento lì diventa quasi qualcosa di positivo, quindi una promessa. Io nella mia attività clinica ricevo un sacco di malati che vengono a chiedermi di fare sperimentazione e la mia comunicazione è soprattutto improntata a spiegare che la sperimentazione per definizione è incertezza, perché se non avessimo questa incertezza non faremmo una sperimentazione. Questo non so se fa bene alle persone però è quel tentativo di essere chiari su quelli che sono le regole del gioco perché nel rispetto del rapporto con le persone una persona che deve magari impegnarsi economicamente per fare viaggi, visite ripetute, frequentare frequentemente un ambiente che non è piacevole che quello dell'ospedale, più frequentemente che in altre situazioni sottoporsi ad esami più invasivi eccetera, è bene che sappia se ha veramente voglia di farlo. E allora tornando al discorso della comunicazione, secondo me questo può essere fatto in un modo che io ritengo debba essere neanche un po' leggero, cioè uno può cercare di comunicare le stesse cose senza mettere necessariamente davanti al malato delle certezze negative che sono spesso quelle che noi medici usiamo per convincerlo a fare delle cose, ma semplicemente noi non sappiamo come andranno a finire le cose. Noi abbiamo pazienti che hanno delle malattie apparentemente molto innocenti che muoiono in poche settimane, persone che hanno malattie molto gravi che muoiono dopo tanti anni o qualche volta addirittura arriviamo a poterli guarire, tutto questo è successo in pochi anni perché una volta la cosa era un po' peggio definita, nella comunicazione tutto questo secondo me è importante che ci sia, cioè che si trasmetta il fatto che tutti viviamo una certa incertezza e che le decisioni devono tener conto un po' di quello che è il nostro willing, un po' di quello che noi ci aspettiamo, di quanto noi vogliamo impegnarci per raggiungere quell'obiettivo e riprendere un po' il discorso che abbiamo fatto forse l'anno scorso o due anni fa quando parlavamo del concetto che nel momento più debole della nostra vita noi ci confrontiamo col fatto che non abbiamo in realtà delle certezze, che è bello sia in negativo che in positivo. Poi quanto questo attivi dei processi, io su questa relazione di stamani che mi ha molto colpito, specialmente l'ultima sulle aree che si accendono e si spengono, ho un po' di criticità, nel senso che io nella mia comunicazione vedo quel tipo di analisi molto fredda, cioè io penso che nel rapporto io posso dire la cosa più dura o meno dura, ma il mio sguardo influenza molto la reazione della persona, cioè se io ho uno sguardo morbido e dico una cosa molto dura, si capisce che il body language ha influenza molto la comunicazione, almeno tra malato e medico. E poi oggi come oggi il malato non è mai solo, il malato ha una famiglia, un caregiver, qualcuno che lo accompagna eccetera e la comunicazione non può prescindere da essere una comunicazione di gruppo, perché poi lui vivrà la sua vita molto più a contatto con queste persone che con me. E quindi questo aumenta molto la complessità, quindi la mia comunicazione deve essere capace innanzitutto di dare un insieme di informazioni che permettono al malato di vivere la sua relazione con il suo ambiente in una maniera serena, perché se io genero confusione, lui questa confusione, cioè questa incertezza la vivrà più volte perché gli altri trasferiranno su di lui la loro incertezza. E poi l'ultima cosa che vorrei aggiungere è che ci sono tante necessità nella comunicazione. Io vedo persone che mi vengono a chiedere una strategia e allora in quel caso non si parla dell'outcome, ma si parla del desiderio di sapere che cosa vogliamo fare. Noi vogliamo stabilire che è meglio fare prima questo, un intervento, poi una terapia medica, la terapia medica forse è prioritaria all'intervento, l'intervento forse non si può fare, però avere un programma. E questa è una cosa che richiede un certo tipo di comunicazione abbastanza determinata perché dà un minimo di sicurezza sull'agire. E poi l'altra, che è molto più complessa e che richiede molto più tempo, è quella di far capire alle persone, oppure di capire, di condividere con le persone quello che loro chiedono come spiegazione. Io vedo delle persone che non saranno mai seguite da me, ma che vengono in genere passano a volte anche delle ore, perché non hanno capito. Non hanno capito non tanto quale sia la diagnosi, perché magari la diagnosi, nella mia esperienza i malati la conoscono molto meglio di tanti altri. Io vedo tanti malati che arrivano da me con 20 bigliettini prima, due telefonate all'infermiera, eccetera, non sa nulla, non sa nulla, io gli chiedo cosa ne pensa e lui mi guarda disperato e dice, guarda io non volevo preoccupare i miei figli, mia moglie, io so di avere una brutta malattia, tutti svenuti, perché ho tutti mandato queste informazioni. Però non aveva capito bene come gestirsi questa situazione, quale sarebbe stato il momento della difficoltà, come gestire il problema attuale, qual era la priorità, perché non ci si occupava magari del fatto che uno non va di corpo, piuttosto che del suo dolore, che non è grande ma è fastidioso. Ecco, queste spiegazioni qua richiedono molto più tempo e secondo me sono molto importanti per dare un certo tipo di serenità, dove io non credo si possa dare una certezza. Grazie, dottor Bro. Io credo che sia estremamente importante la sottolineatura sui caregiver che è stata fatta. Vorrei tornarci dopo magari con un secondo giro di domande. Ora invece vorrei chiedere al dottor Gemma, è sempre la domanda classica, parliamo tanto di relazione medico e paziente, di investimento nella relazione, di tempo quindi da investire, il tempo della cura, c'è il tempo delle parole e un tempo di cura, però questo tempo c'è o non c'è? Allora, il tempo non c'è. Il problema del tempo è critico, soprattutto in ambito ospedaliero forse più che noi in ambito universitario, ma in generale per tutti noi medici che lavoriamo. Vi porto una piccola esperienza personale ai confini tra l'aspetto professionale e l'aspetto personale. Mi è capitato per motivi familiari di frequentare una rianimazione, io lavoro in rianimazione, sono un anestesista e rianimatore, in Islanda. È un paese con quattro gatti, sono pochi, con un unico grande ospedale, Reykjavik, dove sono bravissimi. Allora, ho notato che loro hanno molto tempo, hanno molto tempo perché? Perché hanno meno da fare, sostanzialmente, molto semplice, però hanno una qualità che non tutti hanno, e cioè, quando molta gente ha poco da fare, va alla deriva, e quindi il tempo non lo usa bene. Loro il tempo lo usano, non stanno in ospedale meno di noi perché hanno meno da fare, ci stanno come noi. Però, devo dire, infatti sono rimasto in ottimi rapporti con questi colleghi, io li ho molto ammirati per il rapporto perché loro il tempo che hanno in più rispetto a noi lo dedicavano ai pazienti, al colloquio con i pazienti. Un neurochirurgo che alla fine della sua giornata passa e parla con i parenti e non solo con me, che facendo il medico, collega, potrebbe essere una situazione particolare. Viene a dirti, ma oggi ho operato il tale, che ne pensi? A me lo chiede perché sono medico, ma poi vedevo che avevano un rapporto molto simile con altri, no? Allora, quel tempo è quasi un modo intelligente di utilizzare il tempo libero, però il tempo libero noi non ce l'abbiamo molto. E allora, a questo punto vorrei sottolineare, quindi gli attori sono due, sono i dirigenti, il sistema, noi siamo bravissimi a parlare del sistema. E poi noi operatori. Allora, il sistema, cioè la direzione di quello che è l'ambito sanitario, deve rendersi conto che il tempo destinato al rapporto medico-paziente è un tempo di cura. Il tempo di cura va quantificato, ahimè, anche economicamente, ma non nel senso che si vogliono più soldi, ma nel senso che ovviamente se uno impiega il tempo in quello non lo occuperà in altro. Quindi è un problema di allocazione di risorse e questo è molto molto deficitario, non solo da noi, in tanti altri paesi. Il problema è legato molto alla carenza, nel nostro caso di anestesisti, rianimatori, sono pochissimi, non so se lo sapete, ma molti posti stanno chiudendo le sale operatorie perché non c'è abbastanza gente che lavora. Ma oltre al sistema ci siamo noi, gli operatori. E gli operatori che cosa, quella è una piccola analisi. Beh, l'operatore che non ha tempo si rifugia in una serie di meccanismi. Il rapporto medico-paziente, e mi riferisco particolarmente a quello che più conosco, cioè l'anestesia e rianimazione, è un rapporto che non è un rapporto interpersonale normale, è già stato detto naturalmente prima, è un rapporto funzionale, c'è una finalità che è curare il paziente. Quindi anche il fatto di dire o non dire è una strategia, è essenzialmente una strategia. Io dico o non dico a seconda che questo faccia bene al rapporto col paziente, faccia bene alla salute del paziente. E quindi noi dobbiamo capire anche che cosa è meglio, che cosa vuole il paziente. Un altro piccolo, due piccoli, poi scusate non voglio dilungarmi, mi fermi, altri due piccoli squarci di vita personale. Uno dei miei figli quando era molto piccolo doveva fare un prelievo, prelievo di sangue, banale. Allora l'ho preparato, gli ho raccontato le cose, siamo andati davanti alla collega giovane, collega del centro prelievi e questa qua ha visto questo ragazzino, questo bambino piccolo, ha incominciato il GGGG, il quale là, il compleanno, sembrava la sua festa di compleanno. Mio figlio che era stato preparato e che era un po' duretto ai tempi, ha messo il braccio, guarda questa qua che fa tutte le scene, poi si gira verso di me che volevo sprofondare e mi fa, ma questa qua non doveva farmi un prelievo. Allora, non aveva bisogno del GGGG, il fatto è che bisogna capire che cosa vuole il paziente e noi per risparmiare tempo cerchiamo di farlo, cercare di capire che cosa vuole il paziente. Altro piccolo racconto personale, molto più professionale, anni fa un signore livornese che si era sposato in Danimarca, era tornato per le vacanze a trovare i suoi parenti a Livorno e sulla via del ritorno ha avuto una grave moraggia cerebrale che l'ha portato in coma, è stato ricoverato nella mia rianimazione. Bene, il signore poi ha avuto un decorso in fausto, come era prevedibile, ma quello che voleva la parente, che era la moglie, non era che noi lo curassimo particolarmente bene, perché? Perché lei aveva capito benissimo che il marito stava morendo, quello che voleva era il rispetto delle volontà del marito, che erano contrarie, perché erano in senso eutanasico, a quello che è la legge italiana. Ma la cosa interessante è perché noi, i bisogni del paziente, la comunicazione del paziente deve passare attraverso una selezione di quelli che sono i bisogni e quello che noi pensiamo di poter soddisfare facendo comunicazione, altrimenti perdiamo tempo ancora una volta. Faccio un'ultima annotazione. In questo risparmio di tempo, a volte sbagliato e a volte giusto, entra anche in gioco la super specializzazione della medicina, la super tecnologizzazione della medicina, che è sacrosanta, bellissima, nel mio settore poi è vitale, noi curiamo numeri e macchine più che pazienti, c'è poi paziente attaccato, qualche volta sì, qualche volta ma anche c'è ancora oggi che c'è paziente attaccato. Ma ecco, per traslare in un altro ambiente, c'è un libro bellissimo intitolato Yellow Birds, che è uno di tanti racconti sulla guerra in Afghanistan, credo, e parla di soldati americani. E una delle parti che mi ha più colpito è il racconto di uno sniper, un cecchino, un cecchino che però lavorava al banco, cioè sparava da una stazione lontana, era tutto computerizzato e aveva una visione a infrarossi del campo di battaglia. Questo ragazzo è andato profondamente in crisi quando, colpendo un nemico che è caduto a terra, che però era come un videogioco, a un certo punto è rimasto inquadrato sulla scena, ha lasciato in inquadratura sulla scena dove era caduto questo soldato e ha visto, essendo a infrarossi, il sangue uscire e il sangue caldo che diventava freddo. Ha visto la morte in diretta sul suo schermo. Noi la morte in diretta la vediamo ma non ci accorgiamo tanto. Questo fa parte della comunicazione medico-paziente. Noi prescindiamo perché abbiamo la possibilità, perlomeno parlo del mio ambito, di saltare alcuni passaggi occupandoci dei numeri. Va bene, va bene, però ritorno al punto di partenza. Probabilmente se avessimo più tempo faremmo e l'uno e l'altra cosa. Ecco, portet facere e ti la non omittere. Ok? Mi viene voglia di fare un commento in greco ma sarebbe veramente... Allora beh, lo faccio. Gherasco, le doyei pollari da scomenon. Invecchio sempre molte cose imparando. Scusate, perdonatemi. Alan, sul tempo, credo che tu abbia qualcosa da dire perché io parlando con te ho sentito dire qualche volta. Il fatto della mancanza di tempo non deve essere, non dico un alibi, ma comunque un dettato che impedisce la qualità. O mi sbaglio? Sì, assolutamente. Sul tempo davvero ce n'è tantissime da dire. Stavamo cercando di organizzare un convegno sul tempo. Prima o poi lo faremo. Comincio sì con un aneddoto. Una delle prime interviste che ho fatte, adesso non dico il medico, la relazione proprio un sacco di anni fa. Vado a chiedere che cosa pensa della relazione. Lui dice ma guarda sì è fondamentale però la relazione è tutta questione di tempo. Apre un cassetto, mi tira lì un studio che ha fatto. Dice se io dedico un tot di tempo al paziente comunque sia... Questo mi dirà anche che le scale sono più belle e quant'altro. Nel frattempo, io sono entrato, mi dedica a 5 minuti scarsi, entra un paziente che probabilmente era in fila, io rubavo il tempo, dico scusi dottore disturbo e lui dice sì e lo manda fuori. Nel frattempo gli passano una telefonata e un paziente cura delle patologie abbastanza complesse, vuole sapere qualcosa dei suoi esami e lui gli dice ma cosa pensa che io ho la sfera di cristallo? E attacca e allora... Lasciami che ti interrompo un simpaticone. Poi in realtà ha avuto modo di apprezzarlo. Quella era una giornata evidentemente storta ma volevo dire, come dire, ero andato lì per parlare di relazione e ho detto beh, in diretta ho visto questo. Quindi secondo me c'è una questione, nel senso che c'è un tempo, c'è una parte di relazione costanziale all'atto, nel senso che quando si ha a che fare con l'altro dei gesti ci sono e quindi lì non può esserci una scusa. C'è un modo per fare buona e cattiva relazione, non solo non perdendo tempo ma guadagnando tempo perché poi probabilmente il paziente che era dietro la porta sarà arrivato perché era molto arrabbiato e quindi saranno successe delle altre cose. Quindi esiste senz'altro una questione generale di tempi di sistema che vengono contratti ed è giusto, però spesso secondo me, non dico che è una scusa ma viene confusa con un'erogazione e io anzi posso dire che se il medico non sa la responsabilità che ha nella relazione è meglio accorciarlo questo tempo perché noi abbiamo fatto degli studi tra l'altro con Benedetti che prima veniva citato, beh, assieme all'effetto placebo esiste l'effetto nocebo, quindi se un medico interagisce male col paziente, dico una provocazione, meno tempo gli dai meglio è perché fa meno danni, come dire, quindi questo è la prima cosa. Poi certo è un fattore complesso e secondo me bisogna discutere perché unanimemente quando andiamo in giro sentiamo che ci sono tempi sempre più compressi che tolgono possibilità, ma io non credo che sia solo, non credo che esista sempre un tempo da dedicare alla relazione, credo che tolgano tempo a quello che è il lavoro, cioè se il tempo per fare la diagnosi, per raccogliere un'anamnesi e quant'altro si riduce di 10 minuti non è un problema solo relazionale, è proprio un problema che deve forse interrogare sul lavoro che si sta facendo perché anche prima giustamente Marco diceva, mi domando, sì bisogna capire che cosa vuole sapere il paziente, ma come si fa a capirlo se stiamo parlando di secondi o comunque pochi minuti di interazione. Per ora, quali interlocutore giusto sarebbe qualche decisore politico-economico che però da solo non potrebbe rispondere per tutti, ma un problema sappiamo che esiste, ieri era un incontro allo IEO sulla speranza e è stato tirato fuori diverse volte questo problema, sia da medici che da infermieri che da pazienti, cioè il fatto che in un modello ormai che è economicamente cogente, diciamo così per non dire altro, il tempo è una delle cose che viene sacrificata, c'è poco da fare, è chiaro che bisogna cercare di dare la maggior qualità possibile a quello che c'è, però è un problema oggettivo purtroppo. Su questo anche volevo interpellare il professor Sambattaro, nel senso che se il tempo è un problema oggettivo e la qualità quindi è ancora più importante, quanto è importante che manchi forse ancora una preparazione, una formazione adeguata universitaria su questo aspetto? Intanzitutto a noi psichiatri il tempo non manca, questa è una cosa buona che per fortuna abbiamo. Allora, la formazione universitaria, questo è un elemento molto critico, particolarmente perché leggevo una ricerca dell'associazione americana dei chirurghi ortopedici che descriveva una situazione devastante, cioè andando a guardare, classicamente gli americani fanno queste indagini molto semplici, hanno detto a circa 800 pazienti e 700 medici di chiedere di valutare il professionista su high tech, high touch, quindi tecnicismo e capacità, quindi abbastanza semplice, vanno a confrontare i risultati, vedono la concordanza, allora gli ortopedici si valutavano come efficaci nella comunicazione nel 75% dei casi, 70% e 70% per quanto riguarda il tecnicismo per quanto riguarda la comunicazione è 75% contro 21%, quindi il medico ha due problemi, non è capace, non è neanche capace di riconoscersi e quindi c'è stata questa ricerca che particolarmente sembrerebbe che il tempo era uno degli elementi, la dimensione del caring anche questa mancava e quindi da questo punto di vista, a differenza di quello che facciamo noi, gli americani si sono messi un po' a lavorare e a mettere la relazione medico-paziente, per quanto siano abbastanza tecnicisti anche loro, come uno dei requisiti fondamentali. dal 2005 esiste per chi prende l'abilitazione americana il clinical skills, un esame di clinical skills, quindi c'è un attore che simula un caso clinico e viene valutata anche la capacità di comunicare in modo efficace. Stessa situazione per quanto riguarda anche l'ottenimento della specializzazione, quindi l'esame di specializzazione e anche l'esame del mantenimento per il rinnovo della specializzazione che noi non abbiamo in Italia ma ogni 5 anni, poi dipende dalle varie specializzazioni, è vincolato anche al superamento di questo requisito nella relazione medico-paziente. Per quanto riguarda la formazione è problematico perché sembrerebbe, è stato studiato con diversi strumenti, come parte lo studente di medicina, primo o secondo anno altamente empatico, fare un missionario medico, terzo anno crisi. Il terzo anno già si vede, crolla terribilmente la capacità empatica per poi risalire leggermente ma è molto più bassa rispetto a quella dei primi anni. Sembrerebbe che i fattori critici sono a diversi livelli, da una parte il tecnicismo che noi siamo chiamati a essere super competenti e devo dire anche ricordando i miei studi che effettivamente la competenza e il dettaglio questo è più importante che non... nonostante ci venga detto dai nostri maestri l'esame clinico è la cosa più importante, il primo esempio è molto... avere una risposta oggettiva che è il numero che ci dà la macchina, la risonanza magnetica, ci conforta parecchio ed è quello che viene enfatizzato. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è la mancanza di modelli veri e propri, i maestri di un tempo non esistono più, quindi la relazione non viene favorita da questo punto di vista. Quindi il risultato è questa deumanizzazione, qualcuno la chiamava un autore, l'amnesia sociale che gli studenti di medicina hanno. Di fatto in qualche modo qualcosa è stata fatta, ne parlavo proprio quest'anno e chiedevo agli studenti di quinto anno che fanno psichiatria, esiste una materia che si chiama relazione medico-paziente, che come ogni buona formazione italiana viene fatta bene, tantissimi lucidi slide non vedono un paziente, non vedono una bella relazione. Quindi capite bene che questo non ci aiuta. Si è visto che effettivamente si può insegnare, esiste un training della comunicazione, l'abbiamo visto, sappiamo anche per quanto riguarda il lavoro che avete sempre fatto voi nel contesto dell'industria, ma questo è vero anche per quanto riguarda i medici, e questa è la formazione che deve essere non solo base neurobiologica, ma deve essere anche tecniche comportamentali e anche role playing, vero e proprio anche andare sul campo e provare proprio come funziona la relazione. E si è visto che questo ha degli effetti. La cosa interessante è che addirittura in uno studio di qualche anno fa pubblicato su JAMA si è visto che un training di circa 18 settimane di due ore e mezzo, quindi impegnativo, aveva degli effetti positivi anche, non solo in termini di comunicazione, ma anche nella stessa vita del medico, perché aumentava il senso di soddisfazione e diminuiva il rischio di burnout. Quindi è qualcosa su cui si può agire. Gli americani hanno fatto queste diverse, c'era questo modello alle due F, il classico find it and fix it, quindi trova e ripara. Hanno aggiunto anche engage, quindi coinvolgi il paziente, educate, illustra, cioè rendilo educato sulla patologia stessa, empathize, e poi c'è anche l'enlist, cioè fare una, arruolano nel fare una scelta condivisa. Quindi questo è il modello del 4E più le due F, è uno dei modelli che sono stati utilizzati. Quindi è possibile, tra l'altro, vedevo per quanto riguarda, coniugando l'empatia con la risonanza magnetica, di questo training con la risonanza magnetica, si è visto che sottoponendo degli adolescenti, giovani adulti, ad un training di due settimane con un gioco che favorisce l'empatia, la connettività di quelle regioni che il dottor Olivo ci ha illustrato precedentemente varia. Quindi dopo due settimane, facendo una scansione prima e dopo le due settimane, quello che si vede è questo, quanto più si diventa empatici, c'è un punteggio di efficienza nel task, si vedeva quanto maggiore la connettività della corteccia temporoparietale di destra che abbiamo trovato nel nostro studio. Quindi si può agire, bisogna agire, e anche questa è una ricaduta dal punto di vista biologico. Grazie, io adesso so che il dottor Lebrou vuole intervenire, lo so perché ho sbirciato gli appunti. Io volevo dire solo una cosa, che secondo me non si può pensare che ci sia una definizione del tempo, perché non è solamente un gioco medico-paziente, cioè il tempo vuol dire qualità e quantità. Allora, noi abbiamo detto un sacco di cose, però in questo tavolo ci sono sei persone, nessuno sta usando un telefonino, per esempio. Quindi stiamo dedicando del tempo a quello che stiamo facendo. L'esempio che ci ha fatto prima era di una persona che stava parlando con una persona, riceveva una telefonata, entravano due persone a chiedere dei pareri e lì non è un problema solamente del medico, è un problema di organizzazione. Cioè in quella struttura non c'era un'organizzazione che metteva il medico al di là della sua attitudine, del train che ha fatto, tutto quello che volete, però qualsiasi persona a fare bene il suo lavoro. Poi c'è un altro aspetto, che è quello dell'empatia verso la necessità di produrre un risultato. Allora, se io sono molto empatico, stabilisco un buon rapporto con il mio malato, ma se la mia empatia mi porta a distrarmi un momento su quella che è l'analisi degli esami in quel tempo che ho, che può essere un quarto d'ora, venti minuti, un'ora, non importa, ma se io dedico 40 minuti della mia ora a parlare come io spesso faccio, di pesca, teatro, libri, cucina, in questo modo ho molte più informazioni dai miei malati che se gli chiedo come stai, dove ti fa male, è il mio modo di comunicare. Però se non sto attento e perdo il filo della ragione, io rischio di non produrre il risultato, c'è la gente da me per sentirsi dire che cosa dovrà fare, come potrà affrontare la sua malattia. Quindi la gestione del tempo è un problema legato a tanti fattori, che sono, primo, l'organizzazione in cui tu vai a utilizzare il tuo tempo, che non dipende solo da te, e quindi noi dovremmo non dire i politici, ma dovremmo cercare nelle nostre strutture, nel momento in cui abbiamo un po' di potere organizzativo, di guidare un processo organizzativo che permetta che la gente sia concentrata a fare quello che sta facendo. secondo, su di noi, giustamente, usare gli strumenti che possiamo avere per quanto riguarda la comunicazione, ma io non credo neanche che agli psichiatri non manchi tempo, cioè il tempo manca a tutti, dipende da come lo usano, da come viene utilizzato, cioè il concetto è può mancare o non mancare a seconda di come uno si organizza, e in funzione di questo secondo me si può migliorare molto. Il lavoro che noi abbiamo fatto in istituto per esempio con l'aiuto della Fondazione Quar è stato proprio quello di cercare di andare a sottolineare gli aspetti positivi, quindi chi usava meglio il tempo e automaticamente dietro questo è venuto chi lo usava meno bene, perché poi è stato questo il processo in realtà. E secondo me questo è un buon punto per fare un quadro della situazione. il passaggio successivo sarebbe renderlo formalmente insegnabile, perché sono tante sfumature. Io dirigo una scuola di specialità per gli oncologi e la mia prima domanda che faccio a tutti quelli del primo anno che seguo direttamente nel reparto almeno tre giorni alla settimana è quanto conoscono i malati. I medici non conoscono i malati, non sanno che attitudini hanno, se bevono, se si drogano, e questo nella comunicazione è fondamentale. Perché una volta che andranno a affrontare il problema di come gestire una cosa o una problematica o un rischio, se non conoscono le persone che hanno davanti a loro, il reparto è il momento cruciale, perché lì hanno più tempo, non sono i 20 minuti dell'ambulatorio. E quindi secondo me c'è questo tipo di discorso. Bisogna considerare per che cosa, qual è l'organizzazione e la qualità verso la quantità rispetto al risultato che noi vogliamo ottenere. È diciamo molto concreto, oggettivo, interessante. Ora volevo fare una domanda a tutti voi. Chi di voi ha una persona malata in casa in questo momento? Può alzare la mano per favore? Chi ne ha avuta una nella vita? Va bene, l'avete alzata a tutti. L'alzo anch'io. Perché ho chiesto questa cosa? Perché tutti noi siamo o siamo stati caregiver. Allora vorrei fare una domanda a tutti in generale. Quanto si sa, quanto si studia, quanta importanza si dà alla relazione tra medico e caregiver? E credo che sia importante, se non quanto quella col malato? Molto. Perché come ha detto giustamente prima il professor De Bro mi sembra? Alla fine è il caregiver che si porta a casa il malato, comunica con lui e trasferisce la qualità della comunicazione. Non so chi vuol cominciare. Alan, te l'ho sorteggiato. È una domanda complessa, nel senso che credo al solito che si sappia molto. Quanto si faccia non lo so. Noi abbiamo subito, quando abbiamo fatto l'intervento all'Istituto dei tumori, considerato paziente e caregiver allo stesso modo. Nel senso che entrambi potevano raccontare la positività del caso avuto dal medico. Certo che è fondamentale, se non altro, per come ha detto prima il professor De Bro, finita la visita, chi resta col paziente, a fianco al paziente è il caregiver. Questo quindi implica, e non so l'esperienza, quanto le varie strutture siano attrezzate, un forte coinvolgimento del parente. Quindi sono visite di gruppo, forse lì c'è, da imparare, perlomeno nella nostra esperienza, ma non lo so in generale, dai reparti pediatrici migliori, dove quindi per forza hanno sviluppato questa attenzione su due canali. Questo è un punto a me molto caro, perché facendo anestesia e rianimazione, per la parte di rianimazione abbiamo solo il parente, cioè noi abbiamo solo il rapporto con i parenti, quindi nel nostro caso è il rapporto che abbiamo col malato, un rapporto surrogato naturalmente, però è il rapporto che abbiamo col malato. Il rapporto col parente aggiunge difficoltà perché è ancora meno chiaro, mi rifaccio quel cosetto prima, è ancora meno chiaro che cosa vuole sentirsi dire. Nel senso che mentre per il paziente tutto sommato il paziente vuole star meglio, no? Siamo abbastanza d'accordo su questo. Vi assicuro che per il parente non è sempre così. Per il parente si fa altre domande su quanto costerà, in termini non solo umani, anche economici, l'andamento futuro del suo congiunto. A volte oramai ci sono situazioni anche molto imbarazzanti. Quindi questo aspetto va. Noi nelle rianimazioni migliori abbiamo intrapreso oramai da tempo il percorso delle rianimazioni aperte, che forse qualcuno l'ha già sentito parlare. In rianimazione, classicamente, il paziente è dentro 24 ore su 24, ovviamente, perché non può fare altro, ma i parenti entrano mezz'ora, un'ora al massimo, un modello classico era questo. Adesso le rianimazioni aperte sono le rianimazioni in cui si entra in qualunque orario, praticamente, scusa alcune fasce particolari, e il personale, non ultimo, il personale infermieristico è addestrato ad avere a che fare con i parenti, addirittura anche 24 ore su 24 in posti più illuminati. Questo migliora molto il rapporto, rende molto più difficile il lavoro, però è un percorso che esige formazione, che però è vincente sul piano umano e anche poi sul piano dei risultati. Anche perché lei, il parente di un paziente sperimentante, quindi l'incertezza di cui lei parlava è particolarmente seria. Allora, noi abbiamo come obbligo quello di definire in tutti i nostri documenti chi è il caregiver, quindi noi, ormai, credo tutti, abbiamo l'obbligo di definire, di stabilire chi è il caregiver, quindi un paziente viene definendo chi è il suo caregiver. Poi il medico qualche volta si pone il problema se ha scelto la persona giusta, questo sicuramente succede, perché per esempio nella sperimentazione del signore che viene da agrigento e che ha una situazione complessa, una situazione di salute complessa, difficoltà a spostarsi, dolore, eccetera, la famiglia vuole che lui faccia la sperimentazione, il medico deve spiegare più o meno quali sono i termini e quali sono le probabilità e se lui non ha un appoggio a Milano. Quindi il rapporto con il caregiver è importante perché il caregiver può trasmettere, come ho detto prima, al paziente uno stato di aumentata incertezza e non è detto che voglia sentirsi dire la stessa cosa che si vuole dire al paziente. Quindi un atteggiamento molto franco è quello di dire chi comanda qua e io in generale nell'ambulatorio dico c'è un capo che è il paziente, uno stratega che sono io e poi c'è un equipaggio che siete voi e in questa barca funziona così. Questo a volte raffredda un po' i termini, però poi nel tempo aiuta, quindi il rapporto con il caregiver secondo me è molto importante, però l'importanza è che uno riesca a capire l'equilibrio tra le due persone. Stamattina era una conferenza di salute donna sul caregiver maschile per le donne molto apprezzato, cioè le indagini che hanno fatto, non so se era la DOXA, comunque eccetera, epidemiologica su questa situazione dava una grande maggioranza di risultato positivo, cioè molti pazienti non si aspettavano che l'uomo, il maschio, sapesse affrontare le difficoltà di una famiglia, di una donna giovane malata, della gestione dei bambini, molto di più di quello che era l'atteso, quindi io lì vedo una bella finestra, secondo me c'è stato un bel lavoro culturale, anzi grazie alla stampa, perché tutto questo deve nascere da una forma di educazione, cioè non ce la si può inventare, non può essere solo insegnata nell'università, cioè perché non tutti fanno medicina, il caregiver è uno che magari faceva informatico, ingegnere, cioè qualsiasi cosa e poi si trova a fare il caregiver, quindi è molto importante che ci sia cultura su questo e secondo me le cose stanno migliorando molto, però il ruolo del medico è quello di capire se ci sono contrasti o no e innanzitutto cercare di risolverli, perché questo aiuterà molto il malato, ed è un lavoro anche questo, quindi nel famoso unità di tempo, primo fare una strategia, quindi dare a tutte le sensazioni che abbiamo o non abbiamo un programma, secondo cercare di stabilire un rapporto e ammorbidire un po' la situazione, perché esagerare le tensioni che qualche volta nell'animo di qualcuno di noi, sia caregiver che paziente che medico, sicuramente non aiuta, perché la conflittualità non aiuta in un momento di difficoltà, e terzo cercare di fare in modo di capire che le persone riescano a comunicare fra di loro bene, perché non si portino a casa dei dubbi. Grazie, professor Lauria, tocca a lei. C'è un caregiver di un malato, di SLA, ma è un caregiver serio. Sì, io per dire la verità, adesso stavo facendo un pensiero un po' più generale rispetto a tutti i temi toccati, che sono accomunati da un'idea che è questa, in fondo stiamo cercando di rispondere a una domanda, si può generalizzare un comportamento rispetto alle necessità che nei vari domini, in generale si può generalizzare nella vita, si può dire che, io per esempio penso di sì, per alcune cose penso di sì, per esempio non si può essere maleducati, lui era maleducato, non si può essere maleducati così come per andare più negli aspetti tecnici non si può sostituire alla competenza l'empatia, succedono mille cose, sono successi di dottori che con empatia hanno trascinato persone che naturalmente siccome facevano un altro mestiere non è dovuto conoscere qualche cosa, se tu non fai il dottore, trascinati a fare terapie totalmente prive di ogni significato. Quindi se si può generalizzare, sì, si può generalizzare ma poi una volta che noi desideriamo generalizzare e ci diciamo che questo è possibile, poi dobbiamo contestualizzarlo per definire quali sono le variabili che interferiscono con questo, l'insegnare per esempio, mi venivano in mente gli studi di psicologi cognitivisti degli anni 90 che riguardavano la maledizione della conoscenza, che erano dei temi straordinariamente interessanti di come quando noi conosciamo qualche cosa assumiamo che chi ci sta intorno debba conoscerlo ma in realtà questo interferisce in maniera completa con la nostra capacità di comunicare è lo stesso, ci sono degli studi che dimostrano chiaramente che i pazienti dimenticano l'80% dell'informazione che noi diamo quando sono solamente verbali. Questo succede nel nostro centro che è un posto dove facciamo nell'80% dei casi valutazioni di secondo livello, poi ci si confronta ad effettivamente per quanto strutturato sia, si cerca di immaginare che questo riproduca, abbia un effetto sulla valutazione di un collega, poi in realtà apparentemente non ha capito. Per esempio ci sono altri studi che dimostrano che quando l'informazione è veicolata anche con altre strategie, per esempio visive, la ritenzione è estremamente più ampia. Ora la questione del caregiver, adesso non voglio divagare, ma la questione del caregiver è una questione che si è sviluppata con lo sviluppo della medicina degli ultimi vent'anni, trent'anni, in modo complesso, ma anche in questo caso naturalmente va contestualizzata perché il caregiver di una persona di rianimazione o il caregiver di una persona che ha un tumore e che vive, diciamo, oggi nel nostro mondo occidentale, la relazione che c'è con l'idea di avere una malattia oncologica è diversa dal caregiver di una persona che sviluppa una demenza. L'area della demenza è l'area prototipica rispetto alla quale non c'è dubbio che l'intervento debba essere rivolto in maniera particolarmente intensa al caregiver perché non fare questo introduce dei comportamenti del caregiver che alla fine deteriorano la qualità della vita del paziente che naturalmente perde capacità di critica di sé, di ciò che si sta intorno, del caregiver e quindi complessivamente di tutto. Questo è un intervento estremamente complesso che passa per esempio attraverso la spiegazione di alcuni eventi, non so, con chi ha le demenze, spiegare che, insistere, cercare di spiegare a un malato che ha perso la memoria, che fare esercizio lo aiuterà oppure che non riesce a vestirsi, lasciarlo da solo perché questo naturalmente dà un certo grado di sollievo al caregiver. Quindi di nuovo rispetto a questo, chi è il centro di tutto? Dipende, io penso che facendo il dottore, diciamo lo scopo di chi fa il dottore è cercare di fare in modo che chi abbiamo di fronte viva al meglio le proprie possibilità, sostanzialmente. Poi quello che c'è in mezzo può essere una cosa molto complicata, relativamente semplice, però nei fatti è così. Il caregiver certamente è una medicina che adesso ha dimostrato, è l'area per esempio della malattia degenerativa, l'ho dimostrato appieno, come prendersi cura in modo di contorno, senza la possibilità di modificare la malattia. della malattia determini un miglioramento complessivo del suo decorso, che comunque è invariabile. Quindi sì, naturalmente il caregiver è una cosa importante. Credo che sia molto importante iniziare a contestualizzare alcuni temi, che per fortuna sono sempre più divulgati, credo che ora sia il momento che vengano divulgati anche in contesti definiti, ci sono alcune macro aree all'interno delle quali, e anche alcune macro aree che possono servire di confronto, perché in mezzo a questo, tra le idee, quelle che citavano, il futuro, mi pare. Uno è la speranza, cioè nei fatti, questo riguarda la cura, no? Riguarda il fatto che sì, certo, quando noi abbiamo qualcuno davanti, la nostra tendenza facendo i medici è di immaginare che la vita di questa persona giri intorno alla propria malattia, ma non è mica così, non è vero. Le persone hanno una vita che riguarda un sacco di altre cose, certamente a un certo punto, questo invariabile che riguarda appunto il decreto della nostra vita. Quindi sì, è un tema estremamente rilevante, è un tema che credo debba essere affrontato in maniera più strutturale, contestualizzato in diverse aree, che debba tenere conto delle esperienze che sono compiute in diverse aree. È un argomento così sensibile rispetto al quale abbiamo bisogno ancora oggi che sia affrontato da persone che lo guardano con occhi differenti. Grazie. Professor Sambaccaro? Per noi, sono perfettamente d'accordo con il professor Lauria relativamente al discorso del contesto. In psichiatria quasi sempre in realtà il confine tra il caregiver e il paziente è abbastanza sfumato, nel senso che fa parte di un sistema per cui non possiamo intervenire solamente sul paziente senza non considerare il caregiver. Quindi noi, nella nostra pratica, per quanto riguarda i disturbi dell'alimentazione, per quanto riguarda il disturbo bipolare, ossessivo compulsivo, abbiamo dei gruppi che includono i caregiver, gruppi che ci servono sicuramente anche per fare la diagnosi, per fare il trattamento, considerate che la compliance dal punto di vista farmacologico nei pazienti psichiatrici, già nei pazienti di medicina, generalmente siamo circa il 50% non prende le medicine, nel caso dei pazienti psichiatrici scendiamo parecchio, quindi avere un caregiver che possa aiutarci è sicuramente fondamentale. E quindi anche in tutta l'età evolutiva, fino alla prima età adulta, sicuramente viene coinvolto il genitore. Dopodiché è il nostro alleato, il caregiver. Quindi già nelle nostre interviste cliniche noi abbiamo prima un colloquio con il paziente, poi il colloquio con il caregiver nel caso in cui il paziente ci autorizzi, perché poi quello diventa ancora più delicato. Per noi è fondamentale. Nell'esperienza con gli altri reparti, effettivamente devo dire che sia in anestesiologia che in oncologia abbiamo trovato una grandissima apertura in quella direzione. Quando noi andiamo in anestesiologia è bellissimo perché tutti sanno tutto, tutto il contesto del caregiver è molto chiaro, stesso dicasi in oncologia. In altre medicine in realtà la chirurgia è terribile. Quando chiediamo anche se qualche informazione sui parenti del paziente non ci sanno dire neanche, cioè sanno il nome a stento ma non sanno dei parenti, assolutamente. Quindi per noi è sicuramente importante, però dipende da patologia. È un disturbo d'ansia un po' meno importante, il caregiver, però l'impatto è comunque su tutto il sistema sicuramente importante per noi. Grazie professore. A questo punto direi che lascio però lo spazio alle vostre domande. Volevo giusto sapere, gli studenti che dal terzo anno diciamo l'empatia crolla eccetera eccetera, è l'impatto con la sofferenza, con la malattia, vi siete domandati perché c'è questo, come dire, crollo dell'empatia? Sono studi più che alto di correlazione, allora si ipotizza che sia una deumanizzazione, un distacco associato più... L'attivo forse a non, come dire, essere coinvolti emotivamente rispetto a quello che vedono o che possono impattare col paziente. Sì, questo e poi anche quello che poi da adulti vedranno ancora di più, cioè da adulti, da medici professionisti, il fatto di avere tante materie, poco tempo, alto stress, per cui la componente umana non è importante, quindi abbassare, ok, c'è l'appendicite, il cancro, ma non c'è il paziente che è dietro, quindi quello sicuramente. Si è visto anche, guardando tra branche tecniche e non tecniche, tecniche c'è quelle radiologiche, chirurgiche, in cui meno è importante, il calo è uguale, cioè si è visto che l'empatia è comunque più bassa nei chirurghi, però il calo che si ha al terzo anno è uguale in tutte e due. I chirurghi però sono gli animali differenti. I tagliacuci, come dico io, i meccanici sono gli ortopedici. No, no, no. I grandi chirurghi sono quelli che sanno dare l'indicazione all'intervento, giusto? sono scontata la parte tecnica. Certo, grazie. Relativamente al discorso dei chirurghi, a me molto spesso arrivano richieste del tipo di consulenza psichiatrica per comunicare la diagnosi. Lì mi sembra che sia un fallimento della relazione medico-paziente. Ne ho avute diverse. Beh, però noi siamo tutti uguali, dai, ci sarà... La diagnosi o la prognosi? Questo è in genere il problema della comunicazione, perché la diagnosi è un aspetto, la prognosi è qualcosa dove c'è un margine di incertezza. Tutte e due. Sono contesti in cui la diagnosi è... Cioè, diagnosi e prognosi, cioè, diciamo, devono essere parte di una stessa comunicazione, no? Perché naturalmente, se la prima domanda è che cos'ho, la seconda domanda è che cosa mi succede. Ma questo, qualunque sia la malattia, che anche sia una bronchite, no? Qualunque cosa sia. Cosa mi succede domani? E questo è un tema estremamente rilevante. Che riguarda... Mi posso aggiungere una cosa rispetto a quanto detto prima dei chirurghi, perché quanto anestesista non posso che godere di quando si parla male dei chirurghi, ma non è questo il punto. Infatti, mi sento di spezzare una lancia, anzi, soprattutto volevo far presente che ci sono diversi modelli applicabili. Un modello è un modello estremo a quello che tutti voi avete in mente in questo momento, in cui tutti i medici sono bravi, belli e buoni, parlano con i pazienti, sono anche bravi, professionalmente, eccetera. Esiste un modello completamente diverso, e ovviamente non cito le persone per motivi di privacy, però è applicato anche da almeno uno o due grandi chirurghi milanesi, che è il seguente. Il chirurgo, operatore, non conosce il paziente. Non gli ha mai parlato. Mai. Mai. Non ne sa il nome, non ne sa la vita, non ne sa nulla. Però è un grande operatore, un chirurgo che è un intervento che nelle mani di chiunque altro dura due ore, lo fa in mezz'ora e lo fa meglio. E ha però uno staff alle spalle che si occupa anche del rapporto con le persone. Quindi questo è un modello vincente, dove riescono ad applicarlo. Sì, sì, ne ha facoltà. Una domanda per lei, dottor Ripamonti. Allora, come coniugare i contenuti della nostra ricerca, che sono stati presentati dal dottor Sambataro e dal dottor Olivo, alla relazione medico-paziente? Beh, nel mio caso, come coniugarli? Scrivendo qualcosa di sensato su questa giornata, per esempio. Ma grazie al cielo non lo farò io, ma qualcuno molto più bravo di me che è qua presente in sale, che ho fatto venire perché io sapevo di non essere all'altezza. Comunque, come coniugarlo? Il mio problema è il vostro problema, è quello della comunicazione corretta. La comunicazione corretta deve essere esplicita, ma anche dosata. Allora, il mio primo direttore mi ha dato il consiglio che ancora mi porto dietro, è stato il più prezioso nella mia professione, e mi diceva, quando scrivi un articolo, qualunque articolo, fai come Orio Vergani, grandissimo giornalista, che di qualunque argomento scrivesse intestava l'articolo con un ideale, cara mamma, scrivilo per tua madre. Io ovviamente, come tutti quelli che si sentono dare un consiglio del genere, sì, sì, certo. L'ho sperimentato, funziona. Allora, il lettore deve diventare, in nostro caso, come nostra madre. Dobbiamo cercare di spiegargli quello che è stato detto oggi, in questo caso, ma sempre, per farlo capire a una persona a cui vogliamo bene e a cui cerchiamo di far arrivare quello che pensiamo giusto far arrivare. Con questo gli errori si fanno tutti i giorni, più volte al giorno, però questa è l'unica risposta che posso dare, provare a farlo per qualcuno che in qualche modo amiamo, anche se non vediamo, perché voi, i medici, avete davanti degli occhi che vi giudicano, che vi parlano, che vi comunicano qualcosa, io non ce li ho quegli occhi, però sono magari migliaia di occhi che ci leggono. E allora sappiamo che, inutile dirlo, la penna può far più male della spada, in questo caso un errore nostro può far più male di un bisturi, che magari fa un danno, noi ne facciamo tantissimi. Sono stati citati casi di persone che per una malintesa empatia sono stati avviati a terapie dannose, ecco, malintesa empatia, oppure in qualche caso dolosa empatia, ecco. Ecco, noi non dobbiamo fare questo errore, quindi avere questa freddezza sufficiente, ma anche, mi spiace dirlo, sarà un po' melenso, anche un po' di amore per chi ci legge. Ci si deve provare, non sempre ci si riesce. Non ho altre risposte, temo. E anche, se posso permettermi, questo è un tema molto sensibile, è anche mantenere forte l'idea che, diciamo, ciò che è giudicato necessario della medicina lo è, perché è frutto di un percorso. perché, guardate, gli esempi sono molti, no, da stamina, no, lo so, ma non crediate che questo però si embrica dal dolo, al malpractice, all'ingenuità, che peraltro è, come dire, più che giustificabile, al narcisismo dei medici, dei ricercatori. perché dovete immaginare che ogni informazione passa alle persone, che arriva alle persone che hanno alcune malattie, soprattutto se le malattie non sono curabili, arriva senza nessun filtro, perché le persone stanno male, perdono, no, questi filtri emotivi. Se mi permette, aggiungo, il narcisismo può essere anche di chi fa il mio lavoro, nel senso che abbiamo notizie spesso di giornalisti che si attaccano a una cosa perché è uno scoop, non hanno la minima contezza di ciò di cui parlano, allora quello che io faccio nel mio lavoro è cercare sempre di fare un passo indietro rispetto al dato oggettivo, per quanto possa essere oggettivo, allora la ricerca di oggi dice determinate cose, a me può essere piaciuta o non piaciuta, mi è piaciuta, ma facciamo finta che questo non deve influenzare la cosa, cioè io nel decidere se parlarne e come parlarne devo giudicare il dato e spesso non sono in grado di giudicarlo, quindi devo giudicarlo attraverso il giudizio di persone di cui mi fido, che possono essere queste o possono essere un'altra persona a cui mando la ricerca e chiedo cosa ne pensi, ovviamente basandomi sul rapporto di fiducia esperita. Ecco, si tratta di questo, quando lei parlava di percorso, il percorso è anche questo, scegliere le fonti giuste e fare un passo indietro rispetto al proprio percepito. Faccio un esempio pratico, così almeno faccio anche una dichiarazione di conflitto di interesse, io avendo fatto il liceo a Milano negli anni 70 ho visto parecchi amici perdersi per ragioni di droga, alcuni molto cari e di grande valore umano, io ho acquisito una antipatia formidabile, terribile per la droga. Quando sento parlare di cannabis io sviluppo subito degli anticorpi, allora quegli anticorpi devo trattenerli, devo fare un passo indietro perché qualche volta la cannabis terraverica può essere utile, può non essere utile e nonostante io abbia questo sentire, forse per me tutti in galera. No, ma per dire, bisogna fare un passo indietro rispetto ai dati e dico questa cosa perché per me è particolarmente difficile, però devo stare al dato. Questo è proprio un esempio estremamente calzante perché sì, non bisogna avere nessun approccio ideologico da nessuna parte, è anche vero che per una serie di ragioni che riguarda anche il modo in cui vengono proposte, per carità, chi fa il suo mestiere sa che insomma deve avere un approccio che deve essere consistente, succede che chi da altra parte, dalla mia per esempio, non ha nessun tipo di approccio ideologico perché mai dovrei averlo, prova a sostenere che in realtà le evidenze forti che la cannabis possa essere per esempio efficace nel dolore così come sono scarsissime, sono sostanzialmente nulle, però voglio dire, se io dico questo, e lo dico perché una volta mi invita e faccio una breve cosa, in realtà questo può suscitare l'idea che questa sia una posizione ideologica oppure può suscitare parimenti, posizioni ideologiche che dicono no, non è così. Sono stato richiesto di fare un'intervista che non ho fatto una volta a sostegno di questa associazione che si chiama Piantiamola, che non ha, sì, un nome fantastico, cioè questo secondo me, uno che vuole promuovere, che si chiama Piantiamola, secondo me, un'associazione meravigliosa, a cui ho chiesto nella fase preliminare quali fossero le loro informazioni, le loro informazioni sono che c'era il complotto pluto-giudeco-massonico che sicuramente funzionava. Tutto lì, la questione è, non c'è nessun complotto, io direi, i dottori fanno i dottori, poi ci sono quelli bene, quelli male, quelli più maleducati che usano il telefono, ma nei fatti, la grande maggioranza, sono solo persone che sono più o meno simpatiche, dovrebbero essere più simpatiche, più o meno empatiche, ma sostanzialmente fanno proprio un mestiere per l'obiettivo che vi ho detto prima, cercare di fare le persone meglio. Però questi sono i tempi, il vostro ruolo è molto più rilevante di quello che, anzi, lo so che lei lo sa. Possiamo fare molti danni, lo so. Ci sono altre domande? Allora, se dobbiamo chiudere, io vorrei chiudere con una frase che ho trovato sul libro della Fondazione Quarta, anche le parole curano, che mi ha molto colpito, era proprio all'inizio della prefazione di Borgna, ed è, le parole sono creature viventi, la metafora è di un grande scrittore austriaco, Hugo von Hofmannsthal, ci sono parole che curano e amperano gli orizzonti della speranza, ci sono parole che feriscono e lacerano l'anima. Usiamole bene. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.